signori bentornati signori bentornati in quella che è la stanza degli unboxing e anche la stanza del laser e della cnc siamo qui in collaborazione con lo sponsor di questo video che come avete visto è vevor per parlare per l'appunto di un laser in compagnia del nostro t-rex che abbiamo realizzato appunto al laser nel video precedente chiaro l'abbiamo realizzato con un laser di tutta l'altra categoria era un co2 anche abbastanza potente per quello che può essere l'uso obbistico qui parliamo di un altro prodotto molto entry level più vicino a quello che può essere un incisore laser che è un vero e proprio taglio laser anche se con più passate dovrebbe poter tagliare ma non indugiamo oltre e andiamo ad aprire questo pacchettino vediamo un po' una bella protezione e qui c'è tutto l'ambaradà e che chiaramente sarà da montare perché perché sì quindi manualetto di istruzioni che cos'è questo siamo partiti subito dalla testina laser che se non ricordo male è una 5 watt vediamo se ci potrà regalare emozioni delle fascette delle chiavi per il montaggio immagino viti e qualche campione di materiale occhiali di protezione verdi oh che bella scopettina guardate che carina questa scopettina cavo usb per il collegamento silica gel che metteremo nella stampante 3d alimentatore un componente in alluminio anodizzato direi catena porta cavi con cavi già cablati altra catena porta cavi con cavi già cablati ola attaccati a attenzio un'antenna cos'è wifi mettiamo da parte uno degli assi c'è anche tutta qua guardate una scala millimetrata adesso non so se per centrare qualcosa lo scopriremo uno dei lati immagino l'altro il cavo di alimentazione una piastre due piastre tre piastre eccoli qua un fine corsa e un altro asse qua dentro non sembra esserci altro quindi mettiamo tutto via e facciamo un attimo di ordine allora signori non riesco proprio a mettere tutto sul tavolo perché i componenti sono più di uno insomma non sono super numerosi ma ci sarà un attimo da lavorare ora io vado ad appoggiare questo qua sopra avendo cura di non fare danni mi metto un attimo guardare le istruzioni e iniziamo il montaggio i due lunghi da un lato i due corti dall'altro quindi mettiamo qua un lungo diciamo che mettiamo qua l'altro lungo questo va qui come possiamo vedere qua è ci sono i fori di conseguenza guardate mo c'è il foro qua con la sede per il bulloncino e quindi lo metteremo sicuramente qui tacchete chiave a brugola date in dotazione quella giusta sarà quella di mezzo immagino ma neanche è quella più grossa e iniziamo l'assemblage e la prima è andata fase 1 completata chiaramente mentre facciamo il montaggio da qualche parte vi faccio passare fuori anche tutte le caratteristiche tecniche l'area di lavoro la potenza eccetera la fase 2 dice installare l'asse x sopra questa bella cornicetta come sui lati c'è un'etichettina che indica il lato destro e il lato sinistro dunque mi aspetto che la stessa cosa succeda sull'asse x vediamo un po e mi aspetto male nel senso che c'è questo come dovrei montarlo io intanto manteniamo la calma deve andare a cavaluccio su questa bellissima un attimo è dice se l'installazione non è agevole contattare a guarda come entra così guardate come scorre che è una meraviglia ora siccome di sotto c'è un interruttore non mi fido temporaneamente ci metto un mouse cosa ci vuoi mettere se non un mouse step 3 installare i supporti i piedi e un altro bagaglio che adesso vediamo io direi di partire dai piedi perché così mi sento più tranquillo a lui qua facendomi vedere così dice che un piede va qua come faccio a metterlo qua mantenete la calma come andava messo sto coso l'ho messo al contrario di la verità che l'ho messo al contrario dillo cerchiamo di mantenere la calma allora i piedini andiamo a prendere per l'appunto le viti e fissiamo i tre piedini che siamo al quarto ed ultimo angolo dove va installato il centro di controllo chiamiamolo così la postazione di controllo che è questo bel lavorino qua che sto andando a prendere allora questo andiamo a mettere qui ora lo giro che vi faccio vedere cosa è successo nel frattempo quello che ho fatto è stato installare questa catena portacavi attorno a questo asse con questa o angolare qua in alluminio e vicino al asse x allora montiamo anche l'ultimo pezzo diciamo così importante assieme che è l'alimentazione dell'asse x niente di complicato molto semplice questa forchetta qua si mette attorno allo step qua e ci sono i due fori dove andare a mettere le vitine e l'altra estremità va fissata contro qua il diciamo il supporto del ponte qui ci sono proprio due fori ad hoc per questa cosa ora non vi faccio perdere altro tempo con l'assemblaggio perché effettivamente manca da montare il supporto per il laser qua di fianco il laser sopra attaccare due cavi e abbiamo finito datemi un attimo che ci rivediamo per qualche test ed ecco che il lavoro come potete vedere è terminato questo laser è a fuoco fisso quindi per metterlo a fuoco viene data in dotazione questa placchetta che è esattamente la distanza che deve avere il laser dalla superficie da incidere quindi non si fa altro che mettere il pezzo da incidere sotto questo qua sopra si appoggia sopra il laser si ferma con le due vitine dopodiché togliamo via questo e siamo pronti per incidere quindi adesso cosa facciamo non perdiamo altro tempo e proviamo una qualche incisione e Ed eccoci signori Finalmente alla resa dei conti Andiamo a vedere quello che ne è uscito dalle prime lavorazioni Ci tengo a precisare che io non ho fatto altro che montare la macchina Collegarla al software gratuito laser GBDR per se si chiami E a Lightboard per vedere se effettivamente funzionava con tutti i due E vi confermo che funziona E l'ho usata così come era Quindi non ho fatto calibrazioni Non ho fatto niente Soltanto ho storito bene le viti E mi sono accertato che le cinghie fossero effettivamente tese Quel che basta Dunque questa macchina è solo un incisore? No È un incisore Ma è anche un piccolo taglio laser Perché se parliamo di 4 mm 3 mm di compensato Riesce anche a tagliare Perché ora vi faccio vedere Sono partito con il tagliare un cerchietto veramente piccolino Dopodiché ho provato con un cerchietto più grosso Ma fino al cerchio ci arrivano tutti Dunque ho detto proviamo a tagliare la sagoma un pochino più complicata E guardate che bellino Adesso cerco di metterlo a fuoco Questo aeroplanino Di cui chiaramente abbiamo una seconda copia Perché ho fatto due prove per capire il numero di passaggi che dovevo fare E con 4 passaggi questo spessore di legno Che dovrebbe essere 3 mm o qualche cosa Li taglia agevolmente E dal punto di vista delle incisioni direte voi Beh, dal punto di vista delle incisioni fa il suo lavoro Una nota particolare da spendere è che quando si parla di incisioni Soprattutto di foto incisioni La macchina deve essere calibrata alla perfezione Per dare un risultato pressoché perfetto Io devo ancora calibrarla Ma il risultato è comunque più che buono I fattori che vanno a influenzare la resa finale sono parecchi Tra cui i parametri che andiamo a utilizzare L'immagine, quanto contrasto c'è Quanta luminosità andiamo a dare Quando modifichiamo Se usiamo un pattern di riempimento particolare Scelto tra quelli vari che vengono messi a disposizione dal software Quindi diciamo che con le prime prove Senza neanche stare a perdere troppo tempo Siamo riusciti a ricavarci delle immagini di questo tipo Guardatemi Insomma, tutto sommato Per un laser entry lever di legno non è male E come vi stavo dicendo Molto lo fanno le impostazioni e il materiale che andiamo a utilizzare Perché vedete che già qua Sembra simile Ma il livello di dettagli è differente Tra le due immagini Qua dietro addirittura una stampa che dopo ho bloccato Perché vedete che veniva troppo scura Quindi ho dovuto lavorare sui riempimenti Ed è venuta così Dopodiché ho riprovato nuovamente E abbiamo ottenuto questo risultato Che mi sembra più che gradevole Come potete vedere si vedono bene i dettagli Di tutte queste colonnine E anche il fatto che all'interno di questa ombra C'è dell'altro lavoro Altro test fatto su MDF Guardate questo bel Saturno E qua dietro ho fatto una Formula 1 in miniatura E il logo di Minecraft Perché sì anche per log e personalizzazioni può essere proprio perfetto Altro test che ho voluto fare con un'immagine con più contrasto Guardate che bellino questo pallone E guardate questo volatile Per realizzare questo volatile ci sono voluti circa secondo me 40 minuti Però dai non ci possiamo lamentare più di tanto Per cercare di comprendere al meglio come impattavano i diversi parametri sulla laserata Ho fatto lo stesso soggetto 3 o 4 volte Chiaramente non l'ho portato sempre a termine Però guardate quanta differenza ci può essere Tra quella che è una laserata troppo scura E con un pattern scelto decisamente sbagliato Un'ancora scura leggermente migliorata Qua abbiamo virato ancora E qui il risultato che mi soddisfa di più Qua direi che non c'è niente da dire È venuta abbastanza bene Altra cosa gradevolissima che possiamo realizzare con un oggetto entry level Come questo che mi è stato vi ricordo fornito da Vavor Sono loghi, badge, spille Con dei loghi personalizzati o anche loghi famosi Guardate mo che bellino che è venuto questo pipistrello Come avrete potuto vedere durante le registrazioni È stato tagliato in più passaggi Dopodiché lo abbiamo verniciato con l'aiuto dell'assistente E gli ho dato questa mano di trasparente e lucido E le ultime parole le voglio spendere per la possibilità di incidere e poi ritagliare Guardate qui Abbiamo prima inciso e poi ritagliato in loco il nostro Super Mario Quindi guardate mo che bellino Riusciamo a fare anche cose di questo tipo Che voi direte E lo stai dicendo come se fosse qualcosa di fenomenale No, non è assolutamente qualcosa di fenomenale Ma io sinceramente da un laser con questo prezzo e con queste caratteristiche Non me l'aspettavo Sono abituato ad utilizzare altri laser e lo sapete E da quelli me lo aspetto anche visto il costo che hanno Da questo sinceramente non me lo aspettavo E dunque signori che dire Il video giunge al termine Il prodotto devo essere sincero mi ha soddisfatto Perché se non mi avesse soddisfatto ve lo avrei detto Perché sennò qua si perde la credibilità in un attimo È chiaramente un prodotto come vi ho già detto entry level Non stiamo parlando di un laser da 20 watt o un CO2 da 40 o 50 watt Sono laser che possono regalarci soddisfazioni con una ragionevole spesa economica Chiaramente presi, montati e utilizzati danno già questi risultati Se volete raggiungere il top delle loro possibilità Qualche oretta sopra ce la dovete spendere Ma come avete visto partiamo già molto bene Se vi interessa andare a vedere caratteristiche, prezzi, opportunità varie Vi lascio il link qua sotto che mi è stato fornito da Vevor In modo che possiate andare direttamente al loro sito Per vedere la macchina con tutte le caratteristiche Se soddisfa le vostre esigenze Detto questo è tutto Io e Super Mario e i pennuti vi salutiamo Iscrivetevi al prossimo video Grazie a tutti